e ciao ciao e benvenuti nel secondo video di minecraft oggi stiamo in una mod che manco mi ricordo che cosa è lo vedremo che figa tnt olympic tnt olympics tnt olympics si è una mod delle tnt in realtà si è delle tnt vabbè allora aspettiamo che si gara e non risponde no 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 è giusto devo cambiare perché io scusate tanto eh non ci posso fare niente io mi muovo con le freccette donna donna e donna ma che paracadute allora lo farò anche con questi miei amici sicuro al mille per mille sta mod altrimenti mi non lo devo mettere mi so sto in creativa che figata che figata che 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 figata posso svenire grazie mille troppa roba allora ma come lo metto testa non si mette ma tanto che cos'è è un lanciatore di tnt che vuote devo fare ho sbagliato io non ho fatto niente testa allora sta modda se non ve la scaricate mi arrabbio eh ma si può mirare ma 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 un secondo abbassiamo il volume ma dove si abbassa dove si abbassa what ma è una super mega easy figata allora abbasso e alzo il volume abbasso allora c'abbiamo anche le munizioni munizioni cosa qua non c'è in creativa ma non c'è nessuno va bene allora ma adesso proveremo tutta la roba che c'è no c'è troppa roba ma ah 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 rocket non voglio il tele launcher che serve lo scopriremo più tardi allora che è ramica come si dice eh facciamo una pozione super mega Allora l'ingrediente è il raggio, va benissimo, mi rompe da solo, sembra che sia in un laboratorio superchimico, la, la, ehm, scegliamo, laser focus, questo jumpageggio, cosa, no, non voglio, ma niente funziona, ma è la mod più figa e bella al mondo, tienti, no, allora, con presso rail tank, questa pistola, questa altra pistola, allora, allora l'ingrediente è un'imperazione, Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.